Buongiorno, ben trovati al nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa di martedì 2 aprile 2019 per la lettura insieme dei quotidiani, dei giornali che troverete oggi in edicola, apriamo come sempre, come di consueto con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, ecco qui già inquadrata la prima pagina dell'edizione di Pescara del centro, si parla dell'aggressione dell'agguato ai tifosi biancazzurri domenica sera prima di Lecce Pescara, i tifosi aggrediti, noi lasciati soli, racconto dei tifosi biancazzurri vittime dell'agguato a Lecce, l'autista ferito con una mazza, ci sono le indagini della questura di Lecce proprio per ricostruire quanto accaduto ad una ventina di chilometri dal capoluogo pugliese. Vediamo a centro pagina, Pescara protesta contro il servizio del comune, i genitori boigottano le menze scolastiche, poi c'è un titolo che riguarda la politica nazionale, l'Ocse boccia il nostro paese, soprattutto il provvedimento quota 100, Italia in stallo di Maio, il vicepremier furioso. Vediamo le altre notizie, la cronaca giudiziaria, ragazze sfruttate due condanne, 12 anni e boss di un'organizzazione che favoriva la prostituzione e poi le elezioni a Montesilvano, la Lega candida l'attuale vice sindaco De Martinis, poi in basso vedete tutti gli eletti delle provinciali, il voto a Pescara, Chieti e Teramo e poi ancora selezionati i 10-5 stelle in corsa per le elezioni europee che si terranno il 26 maggio e poi per quanto riguarda la regione, il Consiglio regionale, commissioni decisi i nomi dei presidenti, vince la Lega di Salvini. Andiamo avanti con la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto, sempre del centro Lizzi, l'assassino ai giorni contati Montiodorizio dal giudice Occhei al proseguimento delle indagini, l'inchiesta riporta in paese, siamo nel piccolo centro del Bastese, poi a centro pagina la festa dei tifosi del Chieti per la promozione in Serie D, vediamo e torniamo alla cronaca, Chieti, McDonald assume e corsa ai 50 posti disponibili e poi Lanciano, Piscina è staccato il riscaldamento, tutti fuori come leggiamo da questo titolo del centro, da Lanciano andiamo a Basto, Portoaziende, urge il binario che taglia i costi. Tornando allo sport, il Lanciano prosegue la risalita, i rossoneri esultano per il salto in eccellenza, grazie presidente De Vincentis, grazie dei tifosi al patron Frentano. Siamo alla prima pagina del centro, edizione di Teramo, nuovo colpo della banda delle slot, terzo assalto al bar Vaniglia di Sant'Onofio, rubate le macchinette piene di soldi e poi progetti ambiziosi per il tiro a segno nazionale, Teramo punta infatti ad ospitare le gare internazionali, vediamo anche le altre notizie a Teramo, addio a Elsa di Lodovico dei negozi EDI e poi Giulianova, il Movimento 5 Stelle ospedale da potenziare, dicono i pentastellati e non smantellare. Andiamo poi più in basso, il concorso a Pineto posto part time in comune, 400 domande. A Colonnella l'ATR sciopera il 90% dei dipendenti, previste altre agitazioni se l'azienda non paga gli stipendi. Di gennaio vediamo anche la prima pagina di L'Aquila Vezzano sul Mona del centro, la finanza, riapre la caserma alla città. Siamo ovviamente all'Aquila, oltre 300 studenti accoppito, omaggio alle vittime del sisma perché ovviamente sono pronti tutti i cerimoniali per ricordare il decennale della tragedia del terremoto. Ieri il sottosegretario di governo Gianluca Vacca è stato adonna. Vediamo poi a centro pagina, sotto il Gran Sasso si studia la materia oscura, esperimento dell'Istituto di Fisica Nucleare. E poi tornando all'Aquila, storico barista stroncato da un malore. Vediamo poi più in basso, li foundry, siamo ad Avezzano, li foundry ai cinesi, chiesta chiarezza alla proprietà in questo caso. Pescasseroli, gesto davvero inquietante con una testa ad agnello mozzata che è stata lasciata nei pressi del parco, attacco proprio al parco e ai vertici del parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Andiamo a Sulmona, scomparsa da 20 giorni allarme, la 39enne del giovane fuggita da una struttura sanitaria che si trova nelle Marche. Vediamo la prima pagina dell'inserto Abruzzo del quotidiano Il Messaggero, la sanità in primo piano, ospedali e tagli due mesi per completare il piano, il governo concede tempo alla nuova giunta regionale, la proroga vale anche per il punto nascita dell'ospedale di Sulmona e poi il nodo delle Asle in deficit. L'Aquila, fine delle polemiche, smontato il Deor in Piazza Duomo e poi Pescara, totosindaco, il centrosinistra ora punta sulla Sclocco, ex assessore regionale. Parliamo delle cerimonie che si stanno organizzando in vista del decennale del terremoto all'Aquila, Bertolaso, l'Aquila io e l'orgoglio da ritrovare e poi parla l'ex sindaco Massimo Cialente di farei tutto. Biondi, l'attuale primo cittadino, una città viva. Vediamo anche le altre notizie, andiamo a Pescara, schiave del sesso, condannati i capi e poi Avezzano, i foundri ai cinesi, tra i sindacati non c'è entusiasmo. Lanciano, risparmi spariti a giudizio, impiegata postale. In basso si parla delle aree di risulta della vecchia stazione di Pescara, si tenta l'accordo tra maggioranza e opposizione. E poi la storia di Noemi Sciarretta, parla il papà di Noemi e della sua battaglia per la figlioletta affetta da una malattia rara. Vediamo anche nella parte alta della pagina, si parla di sport, la festa del Chieti che torna e ne è promosso, l'undici neroverde è stato promosso nel campionato di Serie D e Lanciano che invece resuscita e punta sui giovani in vista dopo la promozione in eccellenza, in vista di una stagione che vedrà sicuramente protagonista ancora la formazione rossonera. Pescara, playoff a rischio invece, migliorano intanto i tifosi feriti, due tifosi feriti a Lecce che sono stati già dimessi proprio a poche ore dagli incidenti accaduti a Squinzano. Per quanto riguarda il calcio giocato, la sconfitta subita dai Biancazzurri allo stadio di Via del Mare mette a questo punto anche a rischio i playoff perché il Pescara è quinto ma le inseguitrici sono ad appena un punto, almeno Benevento e Perugia. Vediamo la prima pagina del quotidiano, la città, in provincia rivince il centrodestra, pareggio nei seggi ma dalle urne esce rafforzato il presidente Diego Di Bonaventura. Vediamo anche gli altri titoli nella parte alta della pagina, Teramo Ambiente, il Comune paga i lavori per i cimiteri, Giulianova, sala polivalente aperta ma inutilizzabile, erosione delle spiagge, ripascimento più veloce. E poi vediamo anche una notizia di cronaca che arriva da Colonnella, scoperto un market della droga ambulante. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani locali, vediamo l'edicola nazionale con il Corriere della Sera, con lo scontro tra l'Italia e l'Ocse sui conti, l'organizzazione boccia quota 100 e reddito, Di Maio parla di intromissioni, Salvini creiamo lavoro, ha detto l'altro Vice Premier e Conte, il Presidente del Consiglio, parla a Tria del caso Banche, pressing per i rimborsi ai truffati. Andiamo a centro pagina, Marina Militare, l'Unione Civile e gli auguri della Ministra Trenta, Lorella e Rosa Maria, prime spose in divisa. Vediamo questa notizia. Poi invece ci spostiamo a Torino perché è stata recapitata una busta esplosiva al Sindaco Appendino che dice non ho paura. Vediamo Repubblica, Italia, ritorno all'anno 2000, titola il quotidiano romano, l'Ocse tenore di vita fermo a 19 anni fa, abolire quota 100, Di Maio facciamo austerity, facciano, dice all'Europa austerity a casa loro, Di Maio e poi va all'assalto di Tria, ma il titolare dell'economia si oppone alle richieste di spesa. Vediamo anche su Repubblica la notizia del pacco bomba recapitato al Sindaco di Torino, Chiara Appendino, la polizia matrice anarchica e poi ci spostiamo in Turchia, vittoria dei laici, la caduta del sultano Erdogan perde Istanbul, Ankara e le altre grandi città, paga la crisi, il primo duro colpo alla sua presidenza. Vediamo anche il fatto quotidiano, due sindache sotto attacco, pacco bomba all'Appendino, matrice anarchica, poteva anche esplodere, poi raggi, troppi incendi su rifiuti, Roma assediata dalla criminalità. E poi Rai Luttazzi torna dopo 17 anni, vede Frecciero, show previsto in autunno e poi anche sul fatto quotidiano vedete la notizia che riguarda le elezioni in Turchia, il sultano viene punito nel suo feudo, Istanbul vota per l'opposizione, vedremo quali saranno i risvolti di questo voto anche a livello internazionale con la Turchia che è un paese chiave per i rapporti tra l'Europa e paesi che si trovano proprio al confine con l'Asia, paesi che ovviamente hanno anche dei rapporti non solo commerciali ma anche politici con l'Europa. Siamo alla prima pagina del messaggero nazionale, l'Oxe quota 100 blocca la crescita, questo è il titolo di apertura, il report sull'Italia, economia in stallo, la ripresa a rallentare Di Maio dice no a intromissioni. E poi infornata di Auto Blu ora il Movimento 5 Stelle frena e il leader grillino brocca le gare da 168 milioni, i dubbi di Consip. E poi una notizia che arriva da Roma, vedete la guerra tra Cosche nelle strade di Roma, due gambizzati al bar. Vediamo anche il manifesto, l'assalto finale dei grillini a Tria, questo è il titolo che troviamo nella parte alta della pagina, poi vedete l'Oxe demolisce quota 100, prevede una recessione ed una crescita del meno 0,2%. E poi il titolo a tutta pagina, schiaffo al sultano perché in Turchia crolla il partito del Presidente Erdogan, al voto amministrativo il Presidente incassa la prima vera sconfitta elettorale in 17 anni, dicevamo paese chiave per l'Europa, la Turchia e ovviamente ora si attendono le reazioni a livello internazionale su questo voto. Il mattino di Napoli, crescita Tria sotto assedio, il Ministro convocato dal Premier Conte, decreti pronti, ritaldi colpa delle liti tra Lega e Movimento 5 Stelle, intanto l'Oxe come abbiamo visto anche dagli altri quotidiani, critica il Governo soprattutto per il provvedimento quota 100, il sole 24 ore, stesso titolo, l'Oxe, l'Italia in stallo, quota 100 va abrogata, la flat tax non è equa. Andiamo a vedere anche il prossimo quotidiano che è il tempo, il PIL dall'ultimatum a Laraggi, i Presidenti di 7 associazioni che rappresentano più di 400 mila imprese di Roma, stufidi e segnorati dal sindaco della città, scrive il Tempo Quotidiano Romano che ovviamente rivolge grande attenzione alle questioni che riguardano la capitale. La stampa di Torino, volevo uccidere un italiano felice, confessa l'uomo arrestato per il delitto ai Murazzi, ho scelto un bianco per fare scalpore in carcere per questo terribile fatto di cronaca, è finito un 27enne di origine marocchina. E poi vedete Turchia, Erdogan perde anche Istanbul e poi Conte mette in rigatria così danneggi il Governo, in pratica avrebbe detto il Presidente del Consiglio al Ministro dell'Economia, la Verità, che gioco gioca il Ministro Tria, volano gli stracci nel Governo, ne stavamo parlando proprio pochi istanti fa e poi più in basso i 5 Stelle e Arcobaleno attaccano ancora la Lega, dunque continuano a punzecchiarsi due partiti che sono al Governo. Il Secolo vendo oro altrui, la maggioranza regala le riserve auree dello Stato a Banca Italia, la Lega canonfiata, domani mozione a tal proposito di Fratelli d'Italia. Lasciamo l'edicola nazionale e torniamo a questo punto sui quotidiani di casa nostra, ripartiamo dal centro per parlare delle elezioni provinciali a Pescara, Chieti e Teramo, hanno vinto tutti, titola il centro, parità tra centro-destra e centro-sinistra, i tre Presidenti evitano però l'ingovernabilità, nel Chietino Pupillo tira un sospiro di sollievo ma Febbo e Damario di Forza Italia parlano di vittoria tra gli esclusi eccellenti. C'è la consigliera uscente Zappalorto, nel Teramano fa notizia la debacle della Lega, non piazza nessuno dei suoi ed Alberto, il sindaco del capoluogo e dunque di Teramo, esulta per tre neoconsiglieri che entrano in maggioranza, poi vedete in basso lo specchietto con tutti i nomi. Restiamo a parlare di politica, aspiranti onorevoli, ecco i 10 5 Stelle in corsa per le elezioni europee, dall'inventore Amicone all'agente Caputo, all'architetto Nappi, gli avvocati di Nino e Scipione e l'agronomo di Federico, sono questi i candidati del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni europee. Proseguiamo con la pagina che riguarda la cronaca regionale, ma restiamo a parlare anche in questo caso di politica perché sono stati nominati i presidenti delle commissioni regionali, domani il voto segreto ma non troppo, 4 La Lega, 1 Commissione a Fratelli d'Italia, Legnini alla Vigilanza e Scoccia, consigliera dell'Udc Democrazia Cristiana, sarà ripescata, vedete nella foto alcuni dei presidenti delle commissioni, poi in alto anche Sospiri che è presidente del Consiglio regionale. Andiamo in basso per parlare di ambiente, WWF Anversa con la Torre Eiffel, l'Abruzzo finisce nel video ufficiale che celebra l'ora della terra, il bilancio dei 60 eventi ambientalisti. Andiamo avanti e siamo alle cronache dalle province, partiamo da Pescara, dai gravi fatti accaduti domenica sera intorno alle 20 prima di Lecce-Pescara, gara di campionato di Serie B, calcio violento, la testimonianza dei tifosi biancazzurri che erano incolonnati con Pullman, Pulmini ed auto proprio per raggiungere lo stadio di Lecce, mi hanno tirato pietre e ferito con una mazza, parlo l'autista del bus che trasportava i tifosi aggrediti a Lecce, sono spuntati dalla campagna, hanno cominciato a tirare colpi rompendo il mio finestrino, i tifosi sul Pullman mi hanno chiesto di aprire le porte, sono scesi, poi ovviamente ci sono stati dei problemi e la polizia chiede di annullare la partita per il sindacato della federazione sindacale della polizia, l'incontro deve essere ripetuto a porte chiuse, quella trasferta andava vietata e intanto fortunatamente sono stati dimessi dall'ospedale con una prognose di dieci giorni i due tifosi pescaresi che erano rimasti feriti proprio negli scontri. Allora possiamo andare a vedere il servizio del nostro Andrea Costantini che ha un po' raccontato quello che è accaduto domenica sera a poco meno di un'ora dall'inizio della partita, Lecce-Pescara, vediamo. Doveva essere una serata di festa al seguito della propria squadra del cuore, ma la trasferta di Lecce si è trasformata in un incubo per gli oltre 150 tifosi del Pescara che hanno subito un agguato ad una ventina di chilometri dal capoluogo Salentino. Il bilancio alla fine di due sostenitori feriti che questa mattina sono stati dimessi dall'ospedale dove erano stati portati ieri sera. Due uomini di 37 e 32 anni, entrambi guariranno in una decina di giorni. Secondo la ricostruzione fatta dalla questura di Lecce, l'assalto ai tifosi biancazzurri è stato compiuto intorno alle ore 20 sulla statale Brindisi-Lecce, l'altezza dello svincolo per Taurisano. Poco prima un equipaggio della polizia stradale aveva agganciato la scorta tecnica composta dai poliziotti della questura di Pescara con al seguito la carovana dei tifosi pescaresi. Giunti a circa 20 km da Lecce, dalle siepi della carreggiata, è uscito un gruppo di circa 50-70 tifosi leccesi, travisati e incappucciati, muniti di torce e fumogeni che ha invaso la strada subito dopo il passaggio della prima autovettura di scorta e mentre transitava il convoglio dei tifosi del Pescara. Secondo quanto riferito dalla questura di Lecce, i tifosi leccesi hanno lanciato un bengala sotto una delle auto pescaresi in transito che ha preso fuoco ed ha costretto il conducente a fermarsi. E' stato così bloccato anche il pullman dei tifosi abruzzesi, il bus è stato fatto oggetto di lancio di sassi e colpi di mazza che hanno provocato la rottura del parabrezza anteriore ed il vetro del lato conducente. L'immediato arrivo delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio, circa i due tifosi feriti. Il primo era stato ricoverato al Vito Fazzi con una ferita lacero contusa al cuoio capelluto causata probabilmente dallo scoppio di una bomba carta. Il secondo invece era stato ricoverato all'ospedale di San Pietro Vernotico con una ferita lacero contusa. E' stato dimesso anche l'automobilista investito casualmente da un'auto in retromarcia. Era sceso dal suo veicolo per accertarsi di cosa stesse accadendo, ha riportato un trauma cranico commotivo, una ferita lacero contusa alla testa e una contusione al torace. Prognosi di 15 giorni. Sono in corso le indagini da parte della Digos per individuare le autori dell'agguato, anche con l'ausilio di immagini di videosorveglianza e delle riprese fatte dal personale della Polizia Scientifica. Restiamo a parlare dei gravi fatti accaduti a Squinzano prima di Lecce Pescara. Vedete l'altra pagina, il racconto dei tifosi, di chi era presente proprio in quei minuti. Dieci minuti di inferno ci hanno lasciati soli. Leo Sfamurri alla guida di uno dei pulmini assaltati. Ci poteva scappare il morto. La polizia è arrivata quando è finito tutto, ha detto Leo Sfamurri. Si sapeva che era una partita a rischio. Leo Sfamurri che proprio l'intervista con Leo Sfamurri vi avevamo proposto ieri sera nel corso di replay la trasmissione condotta da Enrico Rocchi, proprio con il racconto di uno dei testimoni di questi incidenti accaduti prima di Lecce Pescara. A proposito di gare di campionato, domenica prossima c'è il derby contro l'Ascoli, un'altra gara ad alto rischio. Si temono anche dei provvedimenti da parte dell'osservatorio dopo quanto accaduto domenica scorsa in terra pugliese. Vedremo che cosa accadrà. Vedete poi in basso una sola pattuglia per i pescaresi. Le forze dell'ordine disposte dalla questura aspettavano la carovana 6 km dopo. Ci sono polemiche anche con i tifosi biancazzuri, due tifosi che sono finiti in ospedale. Ma fortunatamente, come abbiamo visto, sono stati poi dimessi. Parliamo di elezioni pescaresi. Vedete i sondaggi anche del centro e anche di altri quotidiani, di altri organi di stampa che fanno il punto sulle elezioni, su quello che potrà accadere il 26 maggio. E se il centrodestra ha sciolto le riserve, nominando come candidato sindaco per il centrodestra Carlo Masci, presente anche lui ieri sera alla trasmissione replay di Enrico Rocchi, nelle centrosinistra non c'è una unità di intenti. Leggiamo questo titolo di pagina 15. Il PD è spaccato su Ciofani. Emerge sclocco sindaco. Rivolta nel partito degli anti d'Alfonsiani. Parte la richiesta di un altro candidato. Spunta l'idea dell'ex assessore regionale Marinella Sclocco. Oggi l'ennesimo vertice di coalizione. Masci escluda gli ex del centrosinistra. Lega e Fratelli d'Italia dettano le condizioni al candidato del centrodestra. Nel mirino i transfughi passati all'Udc. E dunque c'è qualche polemica anche nel centrodestra. E a proposito di Udc, vedete in basso la foto della conferenza stampa che si è tenuta ieri a Pescara proprio per presentare, per parlare del ritorno nell'Udc dell'imprenditore molto noto a Pescara, Vincenzo Serraiocco, che si candiderà proprio al Consiglio Comunale. Allora noi possiamo andare a vedere il secondo servizio che fa proprio anche il punto con il nostro affreddo primante sulle grandi manovre nel centrodestra ma anche nel centrosinistra. Vediamo. Carlo Masci avrà una freccia in più al proprio arco perché si aggrega anche l'Udc alla coalizione di centrodestra che lo ha indicato candidato a sindaco. Questa mattina è stato ufficializzato l'accordo con la stretta di mano fra Masci e Padovano che ha contestualmente rinunciato alla corsa alla carica di primo cittadino, confluendo nel simbolo Udc con la sua civica. Il coordinatore regionale dei Democratici di centro, Enrico Di Giuseppe Antonio, spiega la strategia di ricostruzione del partito in città che al momento, oltre a Padovano, conta sui consiglieri comunali Pignoli e Bruno, a cui si aggiunge l'ex assessore comunale Vincenzo Serraiocco che ricoprirà la carica di coordinatore cittadino, oltre che di candidato alle prossime amministrative. Oggi abbiamo appunto dichiarato il sostegno pieno e convinto a Carlo Masci per la sua candidatura e abbiamo ricostruito la casa dei moderati in questa città. Una casa che ha servito con passione, impegno e tenacia, una città tra le più importanti dell'Abruzzo. Sono tornati a casa per candidarsi molti amici e sarà una lista che, ne sono convinto, contribuirà alla vittoria in modo determinante di Carlo Masci e della coalizione di centrodestra. Carlo Masci, al suo terzo tentativo di scalata a Palazzo di Città, parte da favorito e punta sulla sua esperienza di lungo corso. Io sono in consiglio comunale da tanti anni oramai, quindi la macchina amministrativa la conosco in maniera puntuale, so quali sono le difficoltà, le problematiche che un sindaco può incontrare, ma penso anche di avere l'esperienza giusta per trovare le soluzioni necessarie per rilanciare una macchina amministrativa che è molto ingolfata, sia perché il personale non ha nessuna soddisfazione in tante situazioni, sia perché questa è una città complessa a cui purtroppo questa amministrazione non è riuscita a dare le risposte di cui aveva bisogno. Nel centro-sinistra mancherebbe solo l'imprimator sul nome di Carmine Ciofani, che ha accettato la richiesta di candidatura da parte del PD mettendosi a disposizione un nome, quello di Ciofani, che però ha diviso l'ormai ex coalizione attualmente al governo della città. Gianni Teodoro, infatti, con un comunicato, ha annunciato la sua candidatura in solitaria alle prossime amministrative del 26 maggio. Mani libere dunque per l'attuale assessore della Giunta Alessandrini, che sperava di essere lui, il delfino del centro-sinistra. Gli altri candidati al momento sono Carlo Costantini con la sua civica, Gianluca Baldini, esponente di un movimento sovranista, ed Erika Alessandrini per il Movimento 5 Stelle. Abbiamo iniziato la scorsa settimana e attraverseremo tutti i quartieri della città per rendere il più aderente possibile il nostro programma alle esigenze, e le necessità delle persone che vivono, lavorano, abitano Pescara. Al consigliere di Pilo che ha detto che il Movimento 5 Stelle è morto, lei cosa risponde? Il Movimento 5 Stelle è vivissimo e gode di ottima salute. Se alcuni consiglieri decidono di prendere un'altra strada perché non si riconoscono più nei principi e soprattutto nelle scelte che il Movimento 5 Stelle ha fatto, auguriamo al consigliere di trovare soddisfazione da un'altra parte e vedremo poi quali saranno gli esiti. Proseguiamo, siamo sempre alle pagine della cronaca di Pescara del Centro. I genitori poi cottano le mense, venerdì solo pasti portati da casa. Il comitato presieduto da Creta Rola annuncia lo sciopero bianco e invita anche i docenti a partecipare. Parliamo anche della Camera di Commercio di Pescara Chieti che organizza per domani un convegno su turismo e agricoltura. Restiamo ancora a Pescara, chiude via Salina, inizia la riqualificazione. E poi autismo, vedete in basso un concerto e palloncini in volo. Annunciate le iniziative in Abruzzo della settimana della consapevolezza. Il comune si tinge di blu. Dopo una settimana di stop riaprono le piscine Lenaia. Arriva anche la proroga di tre mesi per la gestione dell'impianto da parte del progetto Sport, gestione impianti. La caldaia è ripartita ieri, l'acqua delle vasche dovrà arrivare a 24 gradi per permettere come da regolamento fin l'avvio delle attività. Ma una buona notizia perché i lavori sono stati portati a termine. Vedete anche le immagini e a questo punto le attività natatorie presso le piscine coperta e scoperta dell'Enaidi possono riprendere. Andiamo proprio a vedere il prossimo servizio perché si parla proprio della ripresa delle attività dell'Enaidi. Lo fa l'ex amministratore della progetto Sport impianti, Vincenzo Serraiocco. Ascoltiamolo. Si va lentamente verso la normalizzazione della situazione alle piscine l'Enaidi di Pescara dopo i problemi dei giorni scorsi con un guasto alle caldaie che avevano bloccato le attività. Ieri sono ripartiti gli impianti ed oggi ci sono docce calde con la temperatura in risalita in tutte le vasche. Negli ultimi giorni sono stati fatti alcuni lavori straordinari sulla condotta dell'acqua necessari, come spiega Vincenzo Serraiocco, perché ci sono perdite causate da tubi forati ed obsoleti. Ho lottato con le vecchie mentalità che gestivano l'Enaidi e con i rapporti tra l'Enaidi e la regione Abruzzo. Dobbiamo tenere separati come sempre, tant'è che io il giorno in cui mi sono accandidato mi sono immediatamente dimesso dalla società che gestisce l'impianto. Oggi apprendo con piacere che l'impianto è ripartito, ma ho sempre detto da anni che è un impianto vecchio, un impianto cui bisogna rimetterci mano dalla parte, dai tubi idraulici, se non da quelli anche elettrici, in cui mi sono stato sempre disponibile, sempre, sempre, dal governo di centrosinistra, da un anno e mezzo, dove aveva anche la disponibilità lo stesso governo, vecchio governo, di poter rimettere e di ristrutturare l'intero impianto a nostre spese, purché ci sarebbe stata una proroga della gestione dell'impianto. Serraiocco si esprime anche sulla questione delle piscine Le Gemelle di Lanciano. Dopo l'incontro con il sindaco Mario Pupillo, la situazione sembra anche qui essere tornata alla normalità e si va verso un rilancio della struttura sportiva. Abbiamo deciso insieme di poter rilanciare questo impianto delle Gemelle di Lanciano e renderlo uno dei migliori dell'area chietina o vastese, così come si vuol dire, impianto sportivo. Da oggi, dalla settimana scorsa, c'è una piena collaborazione, sento quotidianamente l'assessore allo sport per delega del sindaco sulle attività che devono essere fatte all'interno dell'impianto. Pensiamo che abbiamo rilanciato anche le attività all'interno e che da settembre con la nuova stagione sia ancora più importante l'attività che si farà sociale e sportiva a Lanciano. Restiamo a Pescara, parliamo di cronaca giudiziaria. Sfruttano le ragazze, 12 anni di carcere, condannati il capo e il complice di un'organizzazione italo-romena che favoriva la prostituzione nella zona sud di Pescara. Siamo a Cepagatti, getta pneumatici vicino al fiume di scarica abusiva sul Nora, il responsabile tradito dalle fototrappole. Proseguiamo, siamo a Montesilvano, verso le elezioni comunali. La Lega sceglie De Martinis, sarà il sindaco della città. Il mistero delle cinque liste e l'incognita dell'Underset, dunque nel centro-destra potrebbero esserci novità. Centro-sinistra, fidanza pronto a correre, la scelta della Lega rimette in gioco anche Di Giacomo. Nei cinque stelle è certa la rinuncia di Di Carlo. Auditorium coperto, piano per la stazione di Montesilvano, l'Associazione Culturale Amatori Ferrovie e Acaf presenta la struttura da 250 posti per ospitare a Montesilvano spettacoli e convegni. Ancora Montesilvano, vedete il titolo di spalla, municipio blu per la giornata dell'autismo. A Città Sant'Angelo, candidato PD non del centro-sinistra, i segretari di articolo 1 e Sinistra Italiana intervengono sulla scelta di Melchiorre. Basta in posizioni. Vedete poi in basso, politici ai Fornelli e Montesilvano, la consigliera Palumbo vince con l'Agnello, Cacio e Ove. Andiamo avanti, erosione, spiagge chiuse fino alla metà di maggio. Francavilla incontro in comune tra il sindaco e i balneatori sui tempi dei lavori. I titolari dei Lidi temono che la stagione parta troppo tardi a causa dei cantieri. San Giovanni Teatino, incendio doloso davanti ad una barberia. Siamo alla pagina dell'area di Penne, dell'area Vestina e della Val Pescara. Siamo a Manopello, si allontana per l'allatare il figlio, il Consiglio vota senza aspettarla. Il caso della mamma consigliera Katia Colalongo indigna le opposizioni e un assessore della giunta De Luca. Rifiuti tossici a Scafa scattano le denunce. E poi in Val Pescara chiusa la macelleria non autorizzata, chiusa dai carabinieri del Nassa. A Penne, gli alunni a lezione di educazione stradale. Siamo alla pagina di Chieti del centro. McDonald assume e caccia a 50 posti. Il colosso del fast food cerca personale. E poi in basso, cocaina in auto, pena di 4 anni per un albanese 37enne. Monteodorisio, il delitto di un anno fa, l'assassino di Lizia i giorni contati. Il giudice autorizza la prosecuzione delle indagini, forse individuato il DNA dell'omicida. Il filone d'inchiesta riporta. In Paese, Casalbordino, droga nel vigneto, due imputati dal GUP. Lanciano svuota il conto di un ottantenne, finisce a processo. Ortona, rogo in ospedale, forse una sigaretta. I pompieri cercano le cause dell'incendio al quinto piano del Bernabeo. Siamo alla pagina di Teramo del centro. Ladri scatenati a Santonofrio. Bar perseguitato dalla banda delle slot. Quarto colpo al bar Vaniglia. Vediamo poi a centro pagina. Colonnella, bazar della droga in auto, due arrestati. In basso, a Teramo, la Dio Aedi, monumento del commercio teramano. Elsa Di Lodovico, titolare di storiche pelliccerie a Teramo e Pescara, era ancora in attività a 95 anni. Siamo ancora a Teramo. L'impianto dell'acqua viva, tiro a segno, si punta al salto di qualità. L'associazione che lo gestisce progetta di ampliare la struttura e renderla idonea per ospitare gare internazionali. Andiamo ancora avanti. Siamo alla pagina della provincia di Teramo. Slittono i lavori della pista ciclabile nel centro di Sivi. Il comune sembra orientato a rimandarli. Dopo l'estate, Pineto, oltre 400 domande per un posto part-time in comune. ad Atri, la mancata convocazione del Consiglio sulla strada statale 553, cento rame, accuse strumentali, dice, dalle opposizioni. Pagina dell'Aquila, del centro sisma verso il decennale, mancano quattro giorni. La finanza riapre la caserma alla città, oltre 300 alunni protagonisti dell'iniziativa nella cittadella di Coppito, che fu cuore della gestione dell'emergenza del 2009. E ieri il sottosegretario di governo, Gianluca Vacca, ha visitato Onna. Ritardi inaccettabili, dice, la politica è stata latente, la comunità. E viva, queste le parole del sottosegretario Vacca. L'allarme a Sulmona, cambiamo argomento, per la sparizione di una donna di 39 anni, sparita da 20 giorni, la donna era ospite in una struttura sanitaria di Ascoli Piceno. Le ricerche sono state estese in Abruzzo e nel Nord Italia. A Pescasseroli, episodio inquietante, testa Daniello mozzata, shock nel parco, avvertimento all'uomo che combatte gli abusi edilizi. Gennaio è tra i papabili, intanto alla direzione. All'Aquila, lutto nel mondo del commercio. Un noto commerciante stroncato da un malore, Angelo Nicolai, 72 anni, già titolare del bal del corso, trovato senza vita nell'orto di casa. All'Aquila e addio a nonno Antonio Cucchiella, che si è spento all'età di 107 anni. Siamo arrivati alle pagine dello sport, ma allora possiamo fermarci per qualche istante. Di sport parleremo nell'ultima parte di mattino 6. Ora andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore, poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6. Eccoci in studio, seconda parte di mattino 6. Siamo alle pagine del messaggero, l'inserto abruzzese. Seconda pagina dedicata alla sanità. Il tavolo di monitoraggio, rete ospedaliera, due mesi di tempo per il nuovo piano. Il governo concede una proroga alla Giunta, che si è appena insediata. Respira sul Mona, ma Roma insiste per la chiusura del punto nascita. E intanto, a proposito di sanità, ieri l'assessore alla sanità Nicoletta Veri ha incontrato il manager dell'ASL di Pescara, Armando Mancini. In basso 6 anni di battaglie nel nome della piccola Noemi. Ci siamo per tutte le famiglie, come noi il racconto del papà di Noemi, Andrea Sciarretta, la bimba affetta da una grave forma di atrofia muscolare. A maggio lei compirà 7 anni, dice il papà, e continua a colorare la nostra vita. Tanti i traguardi da raggiungere e quanta strada ancora da fare, ha detto Andrea Sciarretta, il papà di Noemi. Siamo alle cronache dalle province. Ripartiamo da Pescara. La politica ovviamente in primo piano. E sclocco la carta del centro-sinistra. La nota di Fraticelli apre all'ipotesi di candidatura a sindaco dell'ex assessore regionale. Scelta proposta anche da articolo 1, il suo è un nome forte per riproporre il modello Legnini e puntare al recupero di Teodoro nel campo largo del centro-sinistra. Lega alto la Masci. Non accogliere chi ha governato con Alessandrini. La nota di Giuliante condivisa da Fratelli d'Italia. Grana nell'Udc per Pignoni, Bruno e Padovano, che non correrà a sindaco. Provincia in mano al centro-destra. I sei consiglieri eletti hanno il controllo, grazie al Presidente Casciano, più votato a Pescara. Quattro seggi al PD e due alle civiche. Tornando un attimo alla sanità, sosteniamo il DEA di secondo livello. Lo dicono i consiglieri comunali di Pescara del PD Longhi e Gaspari. Gaspari di articolo 1, Longhi, capogruppo del Partito Democratico. Delibera sì, bandono sull'area di risulta. Parola ai 5 Stelle. Antonelli propone di approvare l'atto senza indire la gara. Il Movimento 5 Stelle conferma i 3.000 emendamenti. L'11 aprile la scadenza. Parliamo anche di scuole. Il Mantone di Pescara ha presentato l'app anti-molestia. Invece al liceo classico ci sarà un mese dedicato a Silone, all'Istituto Di Marzio. Ci saranno lezioni di business. La giornata dell'autismo, anche Pescara si illumina di blu. Anche Montesilvano e altri comuni abruzzesi aderiscono al programma dell'Associazione dei Genitori. Vediamo l'altra pagina che riguarda Pescara, l'area metropolitana schiave del sesso, condannati capi, 12 anni di carcere ai romeni che erano al vertice del racket della prostituzione a Pescara. Vediamo altre notizie. Alimenti guasti, chiuso un supermercato dai carabinieri del NAS, politica a Montesilvano. La Lega sceglie De Martinis come candidato sindaco. Andiamo avanti, vediamo la pagina dell'Aquila del messaggero. Smontato il Deor in piazza e ora scatterà il giro di vite. Accordo tra il comune e i proprietari del locale adiacente alle anime sante. Paletti più stringenti per altre richieste e si punta a fornire criteri uniformi per tutti. A proposito dell'Aquila, ovviamente fermano i preparativi per l'iniziativa del decennale del terremoto. Gli angeli del sisma festeggiano 80 anni l'anniversario con la conferenza stampa che ieri si è tenuta a Palazzo Fibioni. A Paganica rimossa invece la discarica nel distretto sanitario. In basso altri due titoli, il primo riguarda il progetto case, la cronaca in questo caso indirettamente del progetto case perché proprio al progetto case con Coche Ascish è stato arrestato un giovane. E poi guardie ecologiche e ambientali a Camarda ci sarà la sede regionale. Proseguiamo, vedete l'inserto del messaggero, alcune pagine dell'inserto del messaggero sul decennale del terremoto. Parla proprio l'ex sindaco dell'Aquila Massimo Cialente che era sindaco in quei giorni terribili del 6 aprile 2009. Rifarei le stesse cose, ora la città è bloccata, il bilancio, questo è il bilancio dell'ex primo cittadino. I protagonisti biondi, questa città è viva e sarà competitiva, dice l'attuale sindaco. Poi i protagonisti di quei giorni terribili, anche in questo caso si parla di Bertolaso, l'ex numero uno della protezione civile. Case e scuole in appena dieci mesi, fantascienza per il nostro paese, dice Bertolaso. E ovviamente il riferimento è alla ricostruzione che partì subito dopo. il terremoto. Lasciamo l'inserto che riguarda il decennale del sisma dell'Aquila. Siamo alla pagina di Avezzano Sulmona, partiamo da Avezzano, rifà un drill sindacato. Noi all'oscuro, non c'è entusiasmo tra le maestranze, dopo la notizia che i cinesi hanno acquisito il 100% delle quote. E poi CAM, non versati i contributi, ora la procura indaga. E poi Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, intimidazione al responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente. Ci spostiamo in basso a Sulmona, il cinema pacifico resterà aperto per altri due mesi. E poi il mercato in piazza, sempre più in affanno. Ad Avezzano, giovane picchiato con una mazza di ferro. Infine ci spostiamo in Valle Roveto, dove gli alunni vanno a scuola di riciclaggio dei rifiuti. Siamo alla pagina di Chieti del messaggero. Piazza Valignani e Metacorso diventano un grande cantiere operai al lavoro per rifare la sede stradale. Vedete di fianco un titolo che riguarda il Chieti, le feste per la promozione in serie D della formazione teatina. Intanto, cambiando argomento, torniamo alla cronaca. All'ippodromo di San Giovanni Teatino, cavallo da corsa ad opato. Due denunce. Elezioni provinciali per quanto riguarda la provincia di Chieti. Finisce pari. Pupillo in bilico. Andiamo a vedere la pagina di Lanciano Vastortona. Ripartiamo, partiamo anzi, pardon, da Lanciano. Risparmi spariti impiegata a giudizio. La dipendente delle poste si sarebbe appropriata di 56 mila euro. Vastomarina da un residence rubato uno scaldabagno. E poi Lanciano resuscita a Lanciano Calcisti che punta sui giovani per altri traguardi dopo la vittoria del campionato regionale di promozione. Andiamo a Vasto. La Sider finisce all'asta dopo la chiusura del 2015. Ad Ortona incendio all'ospedale Bernabeo. L'ipotesi che a causare il rogo sia stata una sigaretta. Siamo alla pagina di Terramo del messaggero. Il voto di Di Buonaventura fa vincere il centrodestra. Provincia dal voto ponderato sarebbe stato un 6 a 6 con il centrosinistra. Ora le deleghe. D'Alberto evita il rimpasto. Tre Terramani e Roseto festeggia due consiglieri eletti. La città colorata di blu. Parliamo di solidarietà con questa iniziativa della Biblioteca Delfico in occasione della giornata mondiale sull'autismo. Andiamo a centropagina. Terreno arido. Evitare di bruciare sterpaglie. L'appello del comandante dei carabinieri forestali anche in vista dell'arrivo della stagione estiva. Tribunale carabiniere nei guai per rifornimenti di benzina. Tornando invece al comune per l'assistenza domiciliare pubblicato dal comune di Terramo l'elenco degli ammessi. Andiamo a vedere la pagina della provincia di Terramo. Partiamo ovviamente da Giulianova. 200 bambini lasciati senza teatro. Tutto organizzato per la rappresentazione all'auditorium My Bus. Restano vuoti. A palazzo nessuno dà l'autorizzazione. Santonofrio. La cronaca. Vetrata sfondata per rubare slot machine al bar Vaniglia. Ci spostiamo nella parte bassa della pagina. Val Vibrata. Droga per la Movida. Presi due spacciatori. E poi ancora in Val Vibrata il bilancio approvato in tre comuni. Annereto opposizione in Subbuglio con possibile ricorso al TAR per vizio di legittimità. Infine Movimento 5 Stelle all'ospedale. Evitata fisioterapia. Parliamo dell'ospedale di Giulianova. Siamo arrivati in questo caso alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a vedere le pagine del quotidiano alla città. Ecco qui pagina 3 prodotti a rischio e locali sporchi nel discount. Il NAS dei Carabinieri Abruzzo chiude un supermercato. E poi a Lanciano dipendente delle poste truffa un anziano e si appropria di 54 mila euro. E finisce a processo. Pareggio anche alle elezioni provinciali di Chieti. Le consultazioni con sei consiglieri eletti per il centro-sinistra e sei per il centro-destra. Elezioni provinciali a Teramo. In questo caso ovviamente il quotidiano la città dà ampio spazio a queste elezioni. Comuni più popolosi vincono sulla politica. Sei consiglieri per il centro-destra e sei per il centro-sinistra. Teramo ne piazza 3. Roseto ne elegge 2. Ma allora possiamo andare a vedere il servizio di Tania Bonnici Castelli che fa proprio il punto sulle elezioni provinciali di Teramo. Vediamo. Finisce in parità la sfida politica in provincia di Teramo dove si è votato per il rinnovo del consiglio provinciale. Eletti sei consiglieri per il centro-destra con due liste e 19 candidati. E sei consiglieri per il centro-sinistra presente con un'unica lista di 12 candidati. Il centro-sinistra si dichiara molto soddisfatto del risultato. Resiste grazie al voto pesante del comune di Teramo ed elegge Mauro Scarpantonio, Martina Maranella, Graziano Ciapanna, Vincenzo Di Marco, Graziella Cordone e Marco Angelini. Martina Maranella consigliere comunale per il PD al comune di Teramo. Oggi consigliere provinciale in pole position per capogruppo del centro-sinistra in provincia. Un bellissimo risultato anche perché sono fresca di candidatura politica, la mia prima esperienza alla provincia. Però c'è una grandissima soddisfazione non solo perché sono stati confermati e consolidati i numeri della maggioranza per i tre candidati consiglieri del comune di Teramo. Ma soprattutto perché c'è stata una risposta positiva un po' da tutto su tutto il territorio provinciale. Centro-sinistra dunque per l'Abruzzo intero riparte da Teramo? Sì, parrebbe di sì. Anche questa nuova elezione è stata un momento molto importante politico perché veniamo da una sconfitta regionale, non pesante, ma comunque che ha segnato il territorio. Le elezioni provinciali del presidente di qualche mese fa avevano determinato una vittoria del centro-destra. Quindi comunque questa parità dei consiglieri ridà un po' di speranza e ci fortifica in questo lavoro che sarà, speriamo, proficuo il più possibile. Ce la metteremo tutta. Al contrario, il centro-destra sembra deluso del risultato. Il pareggio con il centro-sinistra agli sta stretto. Si aspettava qualcosa di più dopo aver stravinto sulla costa. I sei consiglieri eletti sono Gennarino Di Lorenzo, Alessandro Recchiuti, Luca Frangioni, Beta Costantini, Lanfranco Cardinale e Domenico Pavone. Spero di dare il mio contributo e di poter essere utile e rappresentare tutti e 47 i comuni. Sicuramente è un grande risultato. Devo ringraziare tutti i sindaci e i consiglieri che mi hanno dato fiducia e devo ringraziare anche in particolar modo il mio sindaco Cristina Di Pietro perché ha condiviso con me questa scelta. So che non sarà facile perché le problematiche, lei parlava giustamente della viabilità che è uno dei problemi più annosi della provincia. Quindi ci sarà molto da lavorare ma per quanto riguarda le deleghe aspettiamo ancora qualche giorno e vediamo cosa deciderà il Presidente. Proseguiamo con la lettura delle pagine del quotidiano. La città è treguarmata a Teramo tra il Comune e la Teramo Ambiente. Per ora riconosciuti solo i debiti per i lavori post-sisma nei cimiteri. Il 10% della partita in ballo fra debiti e crediti. In basso la proposta di pilotti del PD per un restyling del monumento dedicato a Crocetti. Teatro Romano di Teramo, ecco come cambierà il progetto Belluomo. Nella delibera votata in Consiglio Comunale approvate anche le contradduzioni alla soprintendenza e altre sette osservazioni. Andiamo avanti. Luzi toglie le castagne dal fuoco ad Alberto. Il mancato ingresso in provincia del consigliere 3.0 semplifica la verifica. La decisione ora è nelle mani del sindaco politica. Donaldo Buonaiuto a Teramo, l'esorcista che bacchettò Virginia Raffaele. Questa sera incontrerà i giovani al convento dei Cappuccini. Pubblicati gli elenchi dell'assistenza domiciliare a Teramo. E intanto è stata presentata a Teramo, sempre dalla CGL, la giornata in cui ci sarà la visita del segretario generale nazionale del sindacato Maurizio Landini. Provincia, Iter più veloce per sistemare spiagge e strade. La giunta regionale approva lo schema di convenzione con i balneatori e poi mobilità sostenibile. Ha provato il progetto per completare la ciclovia adriatica in basso con le dara a fiume o fiumetto affidata all'Istituto Abruzzese per le aree protette. Proseguiamo, siamo alla pagina della Val Vibrata. Alba adriatica, tassa su rifiuti invariata e tanti servizi in più per i cittadini. Colonnella, Marchet della droga ambulante, la finanza ferma, un'auto sospetta al casello, in due, finiscono in carcere. Ancora cronaca che ci porta a Santonofrio di Santomero, rubano le slot e poi le scassinano in campagna. Colpo notturno con spaccata ai danni di un bar proprio di Santonofrio di Campli. Siamo alla pagina di Giulianova, la sala polivalente diventa un caso, nessuno firma l'autorizzazione, salta lo spettacolo per gli studenti. Ancora Giulianova, il commissario lascia invariate la Tari e la tassa di soggiorno e poi in basso Sanità. Difenderemo l'ospedale Giuliese in tutte le sedi. Le dichiarazioni queste dell'On. Zennaro dopo la visita assieme al consigliere Cipolletti presso il nosocomio Giuliese. Siamo a Roseto degli Abruzzi, ci siamo solo adeguati agli altri comuni. Il sindaco di Girolamo spiega la scelta dell'imposta sulla pubblicità. Le tasse restano comunque più basse, ha detto il primo cittadino, che altrove ancora a Roseto l'auto gli prende fuoco mentre torna a casa. Providenziale l'intervento dei vigili del fuoco nella zona del Borsacchio. Chiesa di Cologna, ostaggio delle macchine, le auto parcheggiate anche sul sagrato ordinanza del sindaco per la sistemazione dei dissuasori e controlli. Dei vigili ad Atri sulla 553 sono ANAS e istituzioni a non rispondere il presidente del Consiglio Comunale di Atri. Replica così alle polemiche dell'opposizione. Siamo arrivati alle pagine della cultura. Per Odorizio il premio Penne Mosca. Regista Teatino il riconoscimento per il libro. Non invecchieremo mai. Siamo in chiusura, ma dobbiamo parlare di sport. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Icardi verso il ritorno. Quanto vale questa maglia, quella di Icardi, che potrebbe scendere in campo nella prossima gara di campionato? E intanto la Juve di Kenne, perché si torna a giocare con il turno infrasettimanale. Questa sera alle 19 ci sarà Milan-Udinesi, alle 21 Cagliari-Juventus. Poi domani le altre partite con Empoli-Napoli, Frosinone-Parma-Genoa-Inter, Roma-Fiorentina-Spallazio e Torino-Sandoria. Dunque campionato che entra nella fase cruciare. E il Milan a San Siro alle 19 contro l'Udinese si affida a Paquetà per portare a casa la vittoria, che ormai manca da qualche settimana. Corriere dello Sport. Piazza Pulita, Inter e Roma all'Orizzonte, scelte drastiche in vista della fine della stagione. Tutto Sport, Ajax. Io ci sono, il grido di Ronaldo, che dovrebbe scendere in campo nella sfida di Coppa dei Campioni, con la formazione olandese. Siamo allo Sport dei quotidiani regionali. Partiamo dal quotidiano Il Centro. Andiamo direttamente alla pagina che riguarda il Pescara. Delfino spento, Pilon cerca rimedi, solo 13 punti nel ginone di ritorno. I Biancazzurri a secco di vittorie. Da un mese e domani sera c'è il Palermo allo Stadio Adriatico. Campagnaro verso il Forfè. Gavrion scalpita per il rientro al centro della difesa. Stellone senza mezza difesa. Muraschi però recupera. I siciliani pensano al turnover. Nestorovski squalificato in attacco. Spazio al tandem. Moreo, Puskas. Vediamo la pagina del Teramo. Federico Teramo ha 4 punti e poi la gloria. Il DS Biancorosso indica la strada. Se battiamo il Vicenza si potrà pensare ai playoff. Vediamo anche l'altra pagina. Calcio dilettanti. Il DS Dercole. Basta errori a danno del Francavilla. Dunque protesta il dirigente giallorosso. E poi vediamo ancora la prossima pagina che riguarda la ginnastica artistica con l'assegnazione dei titoli regionali a Teramo. Vediamo il messaggero. Il Pescara non va playoff a rischio. E come detto domani sera ci sarà la gara con il Palermo e bisognerà tornare assolutamente alla vittoria. Calcio violento. Stanno bene i tifosi del Delfino. Feriti nel caos di Lecce in basso. Il Vallei di Serie A2 maschile. Si eco contro Roma. Non sarà facile per il Roseto nella A2 maschile di palacanestro. Si gioisce nonostante l'ultima sconfitta. Le rivali hanno infatti perso. E per domenica prossima per la gara di campionato in casa è stata indetta la giornata Sharks. Campitelli ora frena. Pensiamo a salvarci. Il Patron guarda la classifica e non si illude. E come detto domenica ci sarà la gara con il Vicenza. Notiziario. Sparacello e Infantino sono in rampa di lancio. La Serie D. Avezzano nel Baratro. Serve solo un miracolo dopo la terza sconfitta consecutiva. Pineto contro il Castello. Stavolta non puoi fallire. Francavilla a Cappauamaro. Ma il gap dalle dirette concorrenti resta invariato. Infine la Vastese si gode la tranquillità. Notaresco arrabbiato. Dopo la sconfitta proprio dell'Aragona di Vasto. Vediamo la pagina dello sport del quotidiano La Città. Quanto è bella una brutta partita. A me da poche emozioni e zero gol. Ma il Teramo ha imparato anche a capire i momenti clou della partita. E la quota salvezza. Si avvicina ancora la chiusura con la Serie D. Giulianova accade ai Sernia. Ma domani c'è la Coppa. Importante appuntamento per i giallorossi. Che affronteranno il Messina. È tutto per l'appuntamento di oggi con Mattino 6. Io ringrazio Claudio Di Giacomo per la regia. Per aver curato la parte tecnica. Ringrazio voi per averci seguito. Vi rinnovo per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. L'appuntamento domani alle 8. Vi ricordo invece alle 14 la prima edizione del TG6. E questa sera alle 21 in diretta dei nostri studi. L'appuntamento con Proteramo e Jacopo Forcella. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.